Il potos è una delle piante rampicanti più comuni e facili da coltivare in casa Per prima cosa, dopo averla acquistata, tiriamola fuori dal vaso perché questa pianta per crescere ha bisogno di spazio Prendiamo un vasetto più grande e iniziamo con uno strato di argilla espansa E procediamo poi con un misto di torba e pralite che aiuterà a tenere il terreno ben drenato per la pianta Inseriamo la pianta e innaffiamo abbondantemente Concimare la pianta è necessario una volta al mese e possiamo farlo con un concime liquido diluito o con un concime granulare a lenta cessione Per propagare la pianta è facilissimo Preleviamo una talea che abbia almeno uno o due occhietti neri questi qui, perché sarà proprio da qui che nasceranno le nuove radici Immergiamola in un bicchiere pieno d'acqua e nelle settimane successive vedremo nascere le radici Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!